Avevano fatto razzia di contanti ed altri oggetti all'interno di un negozio di Via Piave ad Arezzo, ma sono stati incastrati da Sari il sistema di supporto alle attività investigative in dotazione alla squadra mobile di Arezzo e di tutta Italia, grazie alla quale è possibile identificare persone già foto segnalate dalle forze dell'ordine. Lo strumento, infatti, attraverso un sofisticato processo algoritmico associa all'immagine di un individuo sconosciuto le generalità di chi è già presente nelle banche dati della polizia, con una percentuale di affidabilità estremamente alta. Sono così finiti nei guai sette cittadini di etnia Roma, cinque donne e due uomini, tutti senza fissa dimora e con numerosi precedenti specifici per fatti commessi su tutto il territorio nazionale. La banda, lo scorso 18 giugno, aveva messo a segno il colpo al negozio gestito da un titolare cinese di Via Piave. Ognuno dei componenti del sodalizio criminale aveva un ruolo ben preciso. Dopo aver distratto proprietario, commessi e clienti con vari stratagemmi, la banda era infatti riuscita a mettere le mani sullo zaino con l'incasso della giornata, oltre 3.000 euro, che si trovava dietro ad un bancone. Il tutto era stato immortalato dalle telecamere di video e sorveglianza e così, grazie a Sari, la squadra mobile della questura di Arezzo ha identificato e denunciato la banda di ladri.